Sicurezza significa difendere la tua attività. È bello sapere che Ivry ti aiuta e ti alleggerisce il lavoro. Se vuoi che il tuo negozio, il tuo studio o il tuo cantiere siano sempre al sicuro, puoi affidarti al servizio Ivry e collegare il tuo sistema di allarme con la sua centrale operativa, la più grande d'Italia. E se non hai ancora installato un impianto di allarme e videosorveglianza, può farlo Ivry, offrendoti un servizio completo sin dall'inizio. Le soluzioni di Ivry permettono di interagire a distanza con l'impianto antintrusione e di ricevere le immagini riprese dalle telecamere installate. Se nel luogo della tua attività scatta l'allarme, il segnale raggiunge la centrale operativa dove gli uomini Ivry presenti 24 ore su 24 sono sempre pronti ad attivarsi e analizzare attentamente le immagini provenienti dal luogo dell'evento. Con il servizio di pronto intervento su allarme, l'operatore ti chiama Nel frattempo parte subito una pattuglia mobile che raggiunge in pochi minuti il posto di lavoro. In più, gli uomini Ivry sono assegnati sempre alle stesse zone per avere una conoscenza familiare e capillare del luogo. Sul posto, le pattuglie mobili controllano l'esterno e l'interno. Se si è trattato di un falso allarme, compilano un verbale in cui troverai i dettagli di quanto accaduto. In caso di particolare necessità, viene allertata un'altra delle 600 autopattuglie Ivry presenti sul territorio. L'operazione viene coordinata con le forze dell'ordine. Tra i tanti servizi Ivry per te, puoi scegliere la sorveglianza della zona. Una pattuglia preposta può ispezionare il posto di lavoro in orari da te stabiliti, anche per un controllo puntuale sulle attività in essere. Gli uomini Ivry effettuano anche un servizio di apertura e chiusura di un esercizio commerciale per l'ispezione del posto e, se lo richiedi, per la consegna e ritiro delle chiavi. Ivry mette a disposizione anche un servizio di gestione del contante tramite trasporto valori con macchine attrezzate o blindate. Una volta che hai consegnato a Ivry il tuo contante o i tuoi beni di grande valore, non ci pensi più, perché con una copertura assicurativa dedicata è Ivry ad assumersi la responsabilità al tuo posto. Inoltre l'accredito in banca è pressoché immediato. La continua attenzione a innovare, la volontà di sollevarti da stress e insicurezze ha spinto Ivry ad offrirti il nuovo servizio casseforti. Vengono installate nel tuo negozio e sono collegate direttamente alla centrale operativa Ivry. Il ritiro del contante relativo a credito sono a carico di Ivry. Per un'offerta di servizi ancora più completa, Ivry e i suoi uomini sono al tuo servizio anche in caso di incendio, mancanza di energia elettrica e se perdi le chiavi dei tuoi locali. Ivry sa sempre come stare vicino a te e alla tua attività per assicurarti la tranquillità e la sicurezza che meriti. Per un'offerta di servizio casseforti.